Ok, eccoci qui di nuovo, allora benvenute, benvenuti a voi che vi siete collegati negli e dunque è l'una, è ora italiana, quindi vi do giusto qualche informazione tecnica di rito per seguire questo webinar che stiamo registrando, ecco cominciamo da lì. Il webinar di oggi quindi che è l'ultimo dedicato, l'ultimo del nostro percorso dedicato all'interazione, lo stiamo registrando, ok? Quindi tra qualche giorno, non appena avremo sistemato il montaggio del video e quant'altro, lo troverete a disposizione in replay gratuito sul sito di Casa delle Lingue e sulla nostra playlist YouTube assieme alla presentazione in slide che sta per presentarvi Giulia Grosso. Giulia Grosso dell'Università di Cagliari, eccola qui, la vedete pronta in pole position che oggi ci parla dell'interazione orale nelle classi ad abilità differenziate, quindi un tema che speriamo ma pensiamo anche interesserà molti di voi che partecipate oggi e quindi a questo punto vi ricordo solamente che avete a disposizione durante il webinar la finestra domande e risposte, Q&A o quello che è nella vostra lingua Zoom per mandarci le vostre domande, potete mandarcele in qualsiasi momento del webinar, noi le raccoglieremo e quindi dopo la presentazione di Giulia che durerà una cinquantina di minuti, avremo come sempre il nostro momento di scambio finale in cui lei risponderà alle vostre curiosità, alle vostre domande. Mi sembra che siamo a posto, quindi lascio a Giulia Grosso l'onore e l'onere di presentarsi e di chiudere questo nostro percorso formativo dedicato all'interazione e quindi ci rivediamo tutti assieme alla fine del webinar per lo spazio domande e risposte. Buona formazione e a più tardi. Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ringrazio molto Maria Vittoria, Casa delle Lingue e tutti voi che state partecipando a questo incontro. Vittoria mi ha già presentato brevemente, io sono Giulia Grosso e sono una ricercatrice in didattica delle lingue moderne all'Università di Cagliari. Sono molto felice di essere oggi qui con voi e chiudere questo ciclo di incontri sulla competenza interazionale. Vi inviterò oggi a riflettere su un argomento molto specifico, cioè quello della competenza interazionale di classe. Vorrei darvi delle indicazioni su come organizzeremo la presentazione e sui suoi punti che tratteremo oggi. Ecco, è successo quello che mi aveva preannunciato Maria Vittoria, ovvero le slide partono tutte insieme. Oggi in prima battuta cercheremo di capire insieme che cosa intendiamo quando parliamo di competenza interazionale di classe e vedremo un po' in che modo viene trattato questo argomento in letteratura. Vedremo poi degli esempi, delle strategie a disposizione di insegnanti e apprendenti. Infine chiuderemo l'incontro con un'analisi delle implicazioni per la didattica con un commento di alcuni materiali e alcune attività. Quindi cercheremo di suddividere, diciamo, più o meno i nostri 45-50 minuti a disposizione su questi tre punti. Le mie colleghe, Maria Elisa Birello, Roberta Ferroni, nonché il collega Franco Paoletto, hanno già messo in evidenza nei loro webinar di dicembre e gennaio quanto la competenza interazionale sia importante, sia una competenza chiave. Questo non soltanto perché è un elemento centrale per la didattica e per l'acquisizione linguistica, ma soprattutto perché migliorare la competenza interazionale degli apprendenti porta a un miglioramento e un amplimento delle opportunità di apprendimento in generale. La nozione infatti di competenza interazionale presuppone l'idea che sia centrale ciò che due persone sono in grado di fare tra loro e il modo in cui viene gestita la comunicazione e appunto l'interazione. Secondo Steve Walsh, la competenza interazionale di classe al cui sviluppo dobbiamo puntare durante le nostre lezioni presuppone invece l'abilità di insegnanti e apprendenti di usare l'interazione come strumento per mediare e aiutare diciamo l'apprendimento, sostenere l'apprendimento. Dobbiamo partire dall'idea che spesso nel contesto didattico la competenza interazionale viene scambiata per la competenza necessaria a realizzare una performance individuale. Quindi la capacità viene fatta coincidere con la capacità di produrre forme linguistiche in maniera diciamo precisa, scorrevole e appropriata. E non si pensa invece piuttosto all'aspetto legato allo sviluppo di una competenza collettiva che è basata sulle capacità di interazione e co-costruzione dei significati insieme ad altri interlocutori e partendo proprio dall'obiettivo e dal raggiungimento dell'obiettivo della comprensione reciproca. Quindi quello che invece vorrei sottolineare in questa prima parte dell'intervento è che dobbiamo concentrarci sulla capacità dei nostri studenti non tanto di essere fluenti quanto invece di essere confluenti intendendo per confluenza così come viene enunciato questo concetto da McCarthy e riportato in Walsh come l'atto di rendere la lingua parlata fluente ma insieme con un altro parlante. Quindi la confluenza diciamo ci fa riflettere sul modo in cui gli interlocutori prestano tra virgolette attenzione ai contributi l'uno dell'altro e si concentrano sulla produzione diciamo collettiva del senso perché se diciamo riflettiamo su che cosa un parlante di L2 deve essere in grado di fare all'interno sia di contesti didattici ma anche all'interno di contesti extra didattici sicuramente possiamo fare riferimento ad alcuni aspetti che sono l'essere in grado di tenere conto del contesto locale, la capacità di saper ascoltare e saper mostrare di aver capito la capacità di saper chiarire il proprio intendimento, la propria intenzione e di rimediare ad eventuali unpass comunicativi. Ecco io vi ho quindi riportato qui nelle slide e li vedremo adesso insieme alcuni esempi. I primi tre sono tratti da interazioni avvenute nel mondo reale, adesso ve le commenterò più nello specifico mentre l'ultimo esempio è tratto da una conversazione naturalmente ugualmente avvenuta nel mondo reale ma all'interno di un contesto didattico. Questo corpus è stato raccolto su un luogo di lavoro, una società di raccolta dei rifiuti all'interno della quale la percentuale di parlanti stranieri è importante, si aggira o al momento in cui sono stati raccolti i dati si aggirava intorno al 50% dei dipendenti. Quindi le prime due interazioni che vi mostrerò sono delle interazioni relative a turni di lavoro in cui lavorano insieme un parlante nativo e un parlante non nativo. Ecco il contesto, in questo primo esempio il parlante nativo che viene indicato da B09 riferisce di dover scrivere quella che viene compilata sempre alla fine di un turno di lavoro e che è una nota dove si registrano eventuali anomalie riscontrate durante il turno stesso. Notiamo come il parlante non nativo, che è un parlante ispanofono, perudiano nello specifico, adotti, assuma un atteggiamento convergente, di accomodamento convergente nei confronti del suo interlocutore. Quindi alla battuta 20 vediamo che utilizza un neologismo, inventando la parola cercaalberi, che riprende proprio il materiale linguistico dell'interlocutore italofono. Alla battuta 22 invece la strategia che l'interlocutore non nativo adotta è sempre la strategia dell'etero ripetizione. E addirittura il parlante ispanofono si assume il ruolo, parla al posto del suo collega. Tutte queste battute si svolgono all'insegna di un clima molto disteso, che caratterizza spesso le interazioni sul luogo di lavoro e che serve a oliare gli ingranaggi del buon funzionamento delle relazioni in questi contesti specifici istituzionali. Andiamo a vedere il secondo esempio. Ecco, nel secondo esempio sono protagonisti dell'interazione il parlante V, 16, che è un parlante ancora una volta ispanofono peruviano, e il parlante di, che è un parlante invece senese. Il parlante ispanofono ha richiesto un cambio turno al collega, quindi ha proposto un atto linguistico comunicativo che come sappiamo minaccia la faccia dell'interlocutore. Subito dopo, per stemperare, tra virgolette, il clima di tensione che una tale minaccia della faccia potrebbe aver creato, inizia a proferire una serie di battute. Questo programma la sveglia, che dovrebbero fungere da promemoria per il parlante nativo che, appunto, in un giorno non programmato, dovrebbe fare una levataccia, per così dire, per andare al posto del suo collega. Vediamo come il meccanismo della comunicazione si inceppa, si inceppa e cominciano una serie di sequenze di riparazione, la battuta 2 è, la battuta 4 è il programma, in cui vediamo che il parlante non nativo non riesce a capire ciò che gli sta proponendo il parlante non nativo, ma, diciamo, a un certo punto, sostituendo l'espressione in cui il parlante non nativo non ha usato la collocazione mettere la sveglia, quanto piuttosto l'espressione programmare la sveglia, ecco, il parlante nativo alla fine coglie il senso di ciò che gli viene detto e rilancia con una battuta ironica, non c'è problema, dimmi quanti te ne devo fare di questi cambi. E il parlante non nativo, conscio, appunto, abbiamo detto, del fatto che l'atto della richiesta sia un atto molto minaccioso, con ironia rilancia, diciamo, mettendo in evidenza la consapevolezza che sta chiedendo tanto al suo collega e quindi che successivamente la sua richiesta sarà quella di addirittura di offrirgli un pranzo. E vediamo che il parlante nativo a sua volta accoglie con un'etero ripetizione l'aspetto ironico del commento del collega peruviano e gli propone il pranzo, sì, ma dopo Natale, quindi ci riaggiorniamo fra un po' di mesi. Quindi vediamo tutti questi meccanismi che servono a fare andare avanti la comunicazione laddove si è inceppata e facendo, diciamo, cercando di raggiungere questo obiettivo anche attraverso l'uso proprio dei segnali discorsivi e anche di codici non verbali proprio come, per esempio, la risata. L'esempio successivo, invece, è un esempio tratto dallo stesso corpus, quindi corpus raccolto sempre in contesto lavorativo, in cui però i protagonisti dell'interazione sono due parlanti non nativi che si stanno confrontando sulle pratiche burocratiche necessarie per ottenere il permesso di soggiorno in Italia. D è un parlante più competente, con un livello più alto di competenza in italiano, ed è albanese, mentre il parlante C è un parlante rumeno con un livello di competenza più basso, perché ne ho arrivato. Quindi, vediamo come la battuta 264, il parlante rumeno prova a usare un'espressione del linguaggio giuridico, del linguaggio burocratico, il ricongiungimento familiare, e non ricorda molto bene, come vediamo dalla pausa di due secondi che fa dopo l'uso della parola ricongiungimeno e dal prolungamento della vocale odi, mi ha fatto... e cerca poi successivamente di usare una espressione idiomatica, cioè essere a carico di qualcuno, ma non conoscendola produce un'espressione ancora una volta creativa, dal punto di vista, diciamo, linguistico, essere sulla schiena di qualcuno. Io e mio figlio siamo sulla sua schiena. Significa, vuole dire naturalmente, che sono, diciamo, a carico della moglie. Sono stati, appunto, è stato richiesto per loro il ricongiungimento familiare dalla moglie che si trovava già in Italia in un primo momento. Vediamo che alla battuta 265 il parlante albanese non si scompone, ma riformula, correggendo l'espressione appartenente al linguaggio giuridico burocratico, il ricongiungimento familiare, ecco, e sembra aver capito perfettamente ciò che naturalmente gli vuole indicare il suo collega di lavoro. Quindi, diciamo, qui la possibilità di usare e comprendere un'espressione appartenente a un codice ristretto, che è quello proprio legato alle pratiche burocratiche, crea una sorta di we code attraverso il quale i due interlocutori si riconoscono come membri appartenenti alla medesima categoria, ovvero quella dei lavoratori immigrati in Italia. Ecco, quindi ancora una volta abbiamo osservato qui una strategia di accomodamento convergente da parte dei due parlanti per ricostruire il senso insieme di un'espressione di, diciamo, non immediata comprensione. Nell'ultimo esempio che vi propongo, invece, vediamo un'interazione didattica fra un insegnante alle prime armi, diciamo, e un gruppo di parlanti iracheni, arabofoni. In questo caso l'obiettivo della docente è quello di cercare di trasmettere ai propri studenti gli strumenti per formulare una richiesta cortese. Quindi leggiamo la battuta 221, per favore dammi il quaderno. Vediamo che si susseguono poi una serie di battute in cui gli studenti cercano intanto di comprendere ciò che l'insegnante sta dicendo loro, dai a me, probabilmente da parte dello studente 2, un tentativo di chiarire a cosa si riferisca o a cosa indichi l'imperativo con il pronome dammi. Alla battuta 223 l'insegnante cerca di, diciamo, evidenziare la necessità di usare una formula più cortese, mettendo in evidenza l'uso del condizionale e usando però un metalinguaggio che non è appropriato al livello dei suoi apprendenti, perché il livello dei suoi apprendenti è un livello A1 e addirittura ci sono in classe apprendenti di livello pre-A1. Quindi mi daresti il quaderno non imperativo. Ecco, lo studente alla battuta 224 non capisce naturalmente il metalinguaggio che si riferisce al modo del verbo, è in cattivo, è un verbo, imperativo è un ordine, is an order, dammi il quaderno. Vediamo che l'insegnante fa ricorso a tutte le sue risorse, compreso l'inglese, per cercare di trasmettere il contenuto che vuole trasmettere ai suoi studenti. Lo studente 2 riformula, essendosi reso conto che ciò che l'insegnante vorrebbe da lui è la formulazione di una richiesta cortese, dammi il quaderno per favore, l'insegnante ancora una volta insiste sull'uso del condizionale, ma l'interazione si chiude, diciamo positivamente, con l'intervento dello studente 1, un altro studente della classe, che avendo individuato appunto l'obiettivo dell'insegnante, riformula nuovamente con scusa, per favore e quaderno. Quindi usando ben due mitigatori, scusa e per favore, per sottolineare quanto la sua richiesta appunto sia cortese. Quindi un input non comprensibile in questo caso è stato fornito dalla docente alle prime armi, ma le strategie di compensazione messe in atto dagli studenti alla fine hanno fatto sì che l'interazione vada a buon fine e soprattutto risponda all'obiettivo che si è preposta la docente. Ecco, quindi dicevamo che appunto gli apprendenti delle due devono quindi saper fare molte cose nei contesti extradidattici, in primo luogo e anche in classe ovviamente, e in primo luogo devono assicurarsi la comprensione reciproca, devono comprendersi l'un l'altro. In seconda battuta devono negoziare i significati. Vi ricordate? Ecco l'uso del linguaggio figurato da parte del parlante rumeno. Noi siamo sulla schiena di mia moglie che viene poi ricondotto al più familiare, ricongiungimento familiare per il parlante più competente. quindi negoziare il significato anche di un'espressione che voleva essere un'espressione figurata ma che invece non ne può utilizzare, diciamo, gli strumenti. Devono appunto chiedere e fornire aiuto, fornire chiarimenti una volta che viene loro richiesto. ecco, quindi diciamo che oltre a tutti questi aspetti devono anche saper usare lo humor in maniera appropriata come abbiamo detto può servire nei casi in cui è necessario oliare tra virgolette gli ingranaggi della conversazione. Chi di voi ha seguito il webinar con Paoletto, con Franco Paoletto, ha potuto osservare come in effetti lo strumento dell'analisi della conversazione sia uno strumento molto potente che noi docenti abbiamo a disposizione per poter, diciamo, smontare e andare ad analizzare i meccanismi che possono portare a un'incomprensione oppure invece alla buona riuscita dello sviluppo appunto di una competenza interazionale di classe. Ecco, come dicevo, tutte le strategie che abbiamo visto si possono riassumere sotto l'etichetta di strategie di accomodamento convergente. È una definizione che è stata fornita da Gilles e Coupland nel 91 e implica proprio tutti quei casi in cui gli individui, adesso traduco dalla citazione inglese, si adattano ai reciproci comportamenti comunicativi nei termini di un ampio ventaglio di occorrenze linguistiche prosodiche e non verbali. Ecco, noi abbiamo visto come il ricorso alla richiesta di chiarimento formulata tramite un segnale discorsivo, alla prosodia, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, ma chiaramente il tono di domanda che può accompagnare anche un singolo turno di parola, l'uso del codice non verbale, la risata, ecco, tutti questi aspetti sono proprio finalizzati a mettere in atto queste strategie di accomodamento convergente. Tutto questo ci deve portare a riflettere su che cosa facciamo in effetti poi in classe, nei nostri percorsi di apprendimento guidato e dobbiamo riflettere soprattutto sul fatto che quello a cui dobbiamo puntare è insegnare o sensibilizzare i nostri studenti al possesso, diciamo, delle risorse internazionali sofisticate. Voi avete visto negli esempi precedenti, ma anche nei webinar che avete seguito in precedenza con i miei colleghi, che è implicato nel processo di creazione di una competenza internazionale la capacità di prendere la parola, la gestione del passaggio di turno, le riparazioni abbiamo visto, le sovrapposizioni, le interruzioni, la gestione del topic, dell'argomento. Tutto questo chiaramente è molto più complesso di richiedere all'apprendente di produrre un semplice atto comunicativo come ordinare un caffè. Mentre molto spesso quello che accade in classe, nei contesti didattici, è proprio una richiesta orientata in questo senso, la richiesta orientata alla performance dell'individuo. E' chiaro che questo ovviamente è legato al fatto che per noi docenti è molto più facile porre una richiesta del genere e anche valutarla, no? Perché poi dobbiamo riflettere sulle implicazioni che i nostri percorsi hanno su un'eventuale valutazione. Però diciamo che ci può aiutare nell'identificazione di che cosa può essere veramente utile l'analisi del costrutto della difficoltà interazionale che è stata proposta nello studio di Gabriele Fallotti e Fabiana Rosi del 2015. Questo studio si basa innanzitutto su un framework diciamo basato su tre componenti in cui Robinson ha identificato le componenti della difficoltà interazionale con le tre colonne che vedete. La prima e la terza colonna task complexity and task difficulty fanno riferimento proprio alle caratteristiche diciamo strutturali del compito comunicativo. In particolare la task difficulty fa riferimento all'interazione fra le caratteristiche strutturali del compito proposto e le caratteristiche del singolo apprendente quindi per esempio la sua motivazione i suoi stili di apprendimento i suoi stili cognitivi la sua attitudine verso il compito che viene proposto il suo stato d'ansia l'elemento appunto della complessità del task si riferisce più agli elementi della competenza linguistica che attraverso di esso vengono sollecitati mentre quelle che vengono definite le task conditions sono proprio tutti quegli elementi che si legano alla possibilità di sviluppo della competenza interazionale proprio perché legati alla difficoltà interazionale. Intanto è importante definire che cosa diciamo si identifica con la difficoltà del task e Pallotti lo definisce come tutto ciò che in un task richiede maggiori sforzi a chiunque lo svolga. E appunto tutto ciò che vediamo nella seconda colonna quindi il numero di partecipanti la necessità di trovare soluzioni specifiche e condivise la quantità di contributi richiesti la necessità di negoziare ecco tutti questi sono aspetti che sono sicuramente riconducibili a una maggior competenza interazionale. Nello studio di Pallotti e Rosi questa difficoltà interazionale è stata operazionalizzata e quindi scomposta in componenti più piccole e quindi studiata attraverso l'individuazione di tre variabili il numero di cambi di turno il numero di turni di iniziativa e il contatto visivo. Per quanto riguarda il numero dei cambi di turno noi sappiamo che la telegraficità diciamo dei turni viene appresa con il tempo gli studi in letteratura ci insegnano che molto spesso gli apprendenti i parlanti non nativi sono producono turni più lunghi e più estesi e il cosiddetto fenomeno del waffling pensate appunto alla banalissima al banalissimo esempio che facevo prima quello di ordinare un caffè entrare in un bar particolarmente diciamo affollato in cui vediamo il barista che sia faccenda ansioso fra un cliente e l'altro quanto è più efficace dire un caffè per favore piuttosto che vorrei potrebbe prepararvi un caffè eccetera quindi ecco l'aspetto diciamo legato proprio al numero di cambi turno è un aspetto che si apprende con il tempo in base alla proprietà rispetto al contesto dal punto di vista del numero di turni di iniziativa Pallotti e Rosi hanno contato tutte le volte in cui parlanti non nativi nei task proposti sono stati in grado di formulare quella first pair part scusate quella prima parte della adjacency pair che genera uno stato di rilevanza condizionale e che quindi provoca la risposta dell'interlocutore ovviamente è un maggior sviluppo della competenza interazionale è stato legato a una maggior capacità di prendere l'iniziativa e assumere un ruolo più attivo nel mandare avanti la conversazione e infine abbiamo messo diciamo in è stato messo dai due autori in in evidenza il contatto visivo proprio perché chiaramente le interazioni faccia a faccia che erano previste in alcuni dei task dello studio che ha elicitato questi dati erano quindi esclusi invece da altri task come le telefonate che invece non presuppongono un contatto un contatto visivo a questi aspetti che sono stati appunto messi in evidenza dai due studiosi ho aggiunto il un punto chiave a mio parere e cioè la capacità di essere interculturalmente competenti diciamo per cogliere gli impliciti e realizzare quelle che vengono definite all'interno dell'articolo di Claudia Borghetti del 2018 delle constructions of intercultural understanding quindi lo sviluppo della competenza internazionale di classe passa proprio anche per questa capacità reciproca di cogliere gli impliciti e diciamo realizzare proprio una comprensione interculturale profonda a questo a questo proposito quindi mi sembra importante ricordare che tutte le risorse interazionali che dobbiamo stimolare o da cui possesso dobbiamo promuovere nei nostri apprendenti riguardano proprio aspetti come dicevamo la presa di turno la gestione dell'argomento la segnalazione dei confini di sequenze l'identificazione del frame comunicativo e anche dell'evento comunicativo all'interno del quale ci si trova e vedremo come questo aspetto in particolare nelle classi ad abilità differenziate quelle dove magari i nostri apprendenti non condividono proprio diciamo le caratteristiche degli scenari dei copioni comunicativi che si metteranno in atto o che sono presenti in un determinato testo input possono essere esatto in cui sono non condivisi quindi diciamo dobbiamo proprio ricordarci che non sempre nell'interazione didattica teniamo conto di questi aspetti che in realtà sono gli aspetti chiave appunto per sviluppare la competenza interazionale di classe a questo punto mi piacerebbe proporvi una la visione e il commento insieme di di questa interazione didattica un'interazione che è stata registrata all'interno di una di una lezione che si svolge alla scuola Dante Alighieri di Milano è un video molto breve e lo vedremo due volte la prima volta vi chiederò di rispondere a un breve sondaggio sul video mentre la seconda volta vi chiederò di identificare insieme a me alcuni aspetti chiave del video che sono le strategie di sviluppo della competenza interazionale di classe che vengono o non vengono a vostro parere usate dalla docente quindi chiedo adesso gentilmente a Maria Vittoria di ah no posso farlo io direttamente scusate allora lanciano quindi lancio il video magari scrivete in chat se si vede si sente bene ecco ups no allora allora ragazzi abbiamo visto in questi giorni il perfetto indicativo e abbiamo visto come si usa soprattutto per parlare al passato per descrivere o per raccontare abitudini nel passato quindi voi avete scritto qualche cosa io vi ho mostrato una foto di una classe ricordate di una foto che probabilmente scattava molti anni fa quando io ero bambina che forse voi non l'avete ancora nati e da questa foto vi ho invitato appunto a ricordare qualche momento della vostra infanzia della vostra adolescenza qualche momento così piacevole o meno piacevole quindi qualcuno di voi vorrebbe raccontare un piccolo ricordo della vostra infanzia o adolescenza magari ballesse vai nei anni 80 quando facevo il corso medio ho partecipato di un concorso di musica ho scelto una musica di un cantante portoghese che si chiama Roberto Leal e ho cantato la musica verde vino mi sono sono stato classificato in terzo posto wow e ti ricordi ancora questa canzone un po' la potresti cantare no vamos brindare o vinho verde che è do mio Portugal o vinho verde mi farà recordar aldeia branca che deixei atrás do mar vamos brindare eccozino bravissino grazie Qualcun altro di voi? Perché ricordo della propria infanzia, adolescenza, ma ieri? Ricordi qualcosa? Sì, mi ha fatto male tutti i giorni a scuola e di solito una c'è un bacio qua, con tutti i rossetto, lì, allora tutti i giorni la bevano fino a che tornavo a casa. Quindi i rossetti che tua mamma ti accompagnava? Sì, sempre. No, ma io non lo sapevo fino a che un giorno, quando tornavo a casa era lì tutto il rossetto. Poi negli altri, Albert? Io mi ricordo che io ero una persona, un ragazzo tanto timido, quando ero a scuola, no? Dopo non ho diventato così, come... Adesso non sei più timido. No, adesso no. Ma mi ricordo, no, questa epoca è stata una epoca bellissima per me. Sì, perché in questo momento tanti dei miei compagni adesso continuano a essere i miei amici, dopo tanti anni, questo è il bello, perché abbiamo tanti ricordi, abbiamo vivuto tante avventure, insieme, e quando noi in questo momento facciamo una bella o quando andiamo, parlano di questi anni... È bello, è bello, è bello, è bello, sì, sì, sì. Giulia, vuoi far ripartire il video? Lo vediamo di nuovo? Prima vuoi lanciare il sondaggio? Eh, non ti sentiamo, però mi sa che hai spento il microfono. Adesso? Ok, adesso sì, adesso sì. Ma non riesco, non riuscivo a riattivare il microfono. Eccomi. Allora, dicevo, ho visto che purtroppo siamo un po' indietro con i tempi, quindi proporrei direttamente a Vittoria di lanciare il sondaggio. Ok. E qui commentiamo insieme le strategie didattiche che ha seguito l'insegnante. Ecco, allora adesso dovreste vedere, anzi lo vedete, il sondaggio sul vostro schermo, quindi lasciamo qualche secondo perché rispondiamo e poi condividiamo le vostre risposte e le commentiamo assieme. Bene, vedo che c'è una prevalenza di sì, ma anche i no sono presenti. In effetti quando andremo a commentare insieme le strategie didattiche vedremo che ci sono degli indizi che ci dicono in questo contesto didattico che la competenza interazionale viene di classe, viene diciamo promossa e altri aspetti che invece magari ci fanno deporre per un'opinione negativa su questo aspetto. Vediamo adesso magari se Vittoria può postare in chat la domanda, così mi piacerebbe sentire la vostra opinione in merito. Vittoria non so se hai potuto postare la vostra opinione in merito. Vittoria non so se hai potuto postare in chat la domanda. Ecco, l'ha appena postata, potete scrivere le vostre risposte perché la chat è attiva adesso. Ecco, allora la domanda riguarda le strategie, il come. Come viene facilitato lo spazio interazionale di classe se per voi, se avete risposto sì alla domanda? Chi invece ha risposto no può indicare magari quali sono state a suo parere le criticità. Ecco, abbiamo già una risposta di Giuliana Pellegrino Berna che dice che la comunicazione è prevalentemente docente discente. Benissimo, Marinella è d'accordo con Giuliana, esatto. Marinella scrive interazione solo a due. Sono d'accordo. Benissimo, vedo che già appunto si è delineata la caratteristica principale. Anche io sono d'accordo con Giuliana. Gli studenti sono in circolo. Ecco, invece Alessandra ha messo in evidenza come gli studenti, la disposizione degli studenti in classe, il fatto che siano in cerchio, può aiutare l'interazione. La domanda aperta, dice Francesca, è l'obbligo di rispondere, non favorisce l'interazione. La docente interviene quando necessario per aiutarli a esprimersi correttamente. Vuole parlare, ma poi indica lei chi deve parlare. Avrebbe potuto chiedere ai corsisti di porre delle domande di approfondimento dopo il racconto, per esempio, certo, perché non viene sfruttata l'interazione fra gli studenti. Ed è questo forse l'aspetto che salta più all'occhio. Non lavorano in coppie, scrive Maximilian, ascolta le loro storie ma non commenta o prosegue la conversazione. Invece Lorenza ha messo in evidenza il fatto che l'introduzione dell'insegnante era troppo lunga. Invece Elisabetta dice che la docente usa la gestualità e il contatto visivo per coinvolgerli. Ecco, vedete proprio tutti questi aspetti che avete notato sono fondamentali. Di fatto, come avete già notato anche voi, quello era un compito che l'insegnante aveva proposto agli studenti di svolgere a casa. Infatti nella parte iniziale del video vediamo come tirano tutti quanti fuori il proprio quaderno e guardano degli appunti. Quindi probabilmente l'insegnante aveva chiesto di realizzare un compito. Però anziché trasformarsi o anziché trasformare questa richiesta di un riempiego dell'imperfetto e finalizzato alla funzione comunicativa di raccontare, descrivere abitudini o ricordi al passato per un'occasione di sviluppo della competenza interazionale di classe l'insegnante si limita a chiedere a ciascuno studente di riportare il compito in versione orale. Quindi da una parte riproduce il consueto schema, diciamo interrogazione, risposta, controllo. Il controllo o diciamo la valutazione su quanto viene detto degli studenti viene fatta attraverso commenti come wow quando interviene il primo studente e i partecipanti naturalmente assumono la simmetria del proprio ruolo diciamo un po' passivo. Opera come avete notato giustamente voi il controllo della presa di parola, autorizza gli alunni a intervenire e sancisce qual è il tempo massimo che può essere dedicato a ciascuno. È chiaro che ovviamente alcuni di questi aspetti sono legati all'interazione didattica, to cure, sappiamo tutti che se abbiamo una classe molto numerosa e uno studente magari particolarmente espansivo che non vede l'ora di raccontare le proprie esperienze con dettagli, dobbiamo anche limitare tra virgolette queste performance individuali per l'appunto ma si sarebbe potuto fare altro per facilitare lo spazio interazionale. dal punto di vista degli aspetti positivi come avete notato voi la disposizione spaziale, la presenza di domande di espansione tramite le quali la docente vuole appunto approfondire anche se molto velocemente quello che gli studenti hanno raccontato. Grazie mille della vostra partecipazione e speriamo magari di approfondire con qualche altra domanda alla fine e però quello che appunto è importante diciamo osservare è che lo spazio interazionale lo possiamo facilitare tramite un'attesa paziente delle diciamo risposte dell'apprendente scusate qui riparte il video ma non invece non riparte ecco si era di nuovo bloccato il cursore quindi se dobbiamo pensare a queste strategie pensiamo appunto alla nostra capacità di aspettare con pazienza le risposte degli apprendenti di solito i feedback degli insegnanti vengono fornite e forniti un secondo dopo la richiesta se l'apprendente non interviene quando invece dovremmo concedergli la possibilità di avere un turno più esteso con tempo sufficiente per pianificare l'intervento e soprattutto dobbiamo provare a resistere alla tentazione diciamo di riempire i silenzi e non eccedere nell'uso di quelle che vengono chiamate le risposte eco in cui noi stessi insegnanti riproduciamo o il materiale linguistico dell'interlocutore tramite quelle che vengono chiamate appropriazioni oppure ripetiamo ciò che stiamo noi stessi dicendo però sottraendo così tempo prezioso al dialogo e poi come giustamente avete notato voi gli studenti avevano semplicemente un'interazione uno a uno con la docente quindi tutti questi aspetti non hanno favorito in quel caso lo sviluppo della competenza interazionale di classe molti di voi operano in all'interno di quelle che abbiamo definito classi ed abilità differenziate nel titolo dell'intervento cioè delle classi disomogenee per livello di scolarizzazione dei parlanti livello di competenza linguistica lingua di origine motivazione con la quale approdano al nostro corso di italiano possono essere un esempio nel contesto italiano le classi dei dei cpa dei centri provinciali di istruzione per gli adulti oppure nei contesti di insegnamento dell'italiano all'estero le classi delle scuole di lingua private che raccolgono utenti con situazioni completamente diverse ed è necessario e possibile in questo tipo di classi lavorare proprio sullo sviluppo di questa competenza congiunta che è la competenza interazionale questo naturalmente lo possiamo fare anche mettendo a confronto gli studenti con interazioni reali come avete visto anche nei precedenti webinar abbiamo tantissime eh risorse le risorse video alle quali possiamo accedere molto facilmente alle quali sono sicura che già fate abbondantemente ricorso ai corpora di di parlato spontaneo alcuni dei quali vi sono stati mostrati dalle mie colleghe eh e mh proponendo una stratificazione di eh di attività questo vale soprattutto per quelle classi che eh pur essendo formalmente di un livello predefinito hanno in realtà eh presentano profili di apprendenti molto diversificati anche per eh per livello eh arriviamo quindi alla fine diciamo del del nostro incontro eh con la eh il commento di alcune attività didattiche che sono volte a elicitare la competenza interazionale di classe ehm questi materiali didattici che vi mostrerò sono dedicati eh contrariamente a quelli presentati da Roberta Ferroni e Marelisa Birello ai livelli eh più alti nel caso di al dente perché ho preso in considerazione eh al dente quattro che quindi corrisponde a un livello B due ehm e poi invece se rimane tempo dei materiali didattici dedicati ad apprendenti eh immigrati rifugiati quindi di livello pre a uno e a uno la prima attività sulla quale mi vorrei soffermare è eh questa eh proposta ehm all'interno dell'unità due ti prendo in parola ed è un'attività ehm nell'ambito delle eh della serie di attività che viene denominata educare con le serie tv eh quello che viene proposto agli studenti è il eh quello che si chiama debate eh cioè la divisione della classe in due gruppi con eh uno dei due gruppi a favore delle serie tv sulla criminalità organizzata mentre l'altro gruppo invece contrario all'uso eh di questo eh di questo strumento ogni gruppo deve costruire la lista dei pro e dei contro a seconda del gruppo a cui appartiene e poi si apre appunto il dibattito quindi è un'interazione che in qualche modo si basa su eh un lavoro pregresso eh che nei singoli gruppi gli studenti devono fare e e sul quale possiamo ricavare preziose indicazioni dalla guida per l'insegnante ecco quello che mi faceva piacere sottolineare insieme a voi oggi eh è che eh proprio nella guida per gli insegnanti ci sono alcuni eh consigli che possono veramente rendere mh questa attività un'attività utile allo sviluppo della competenza interazionale di classe assicurarsi che i gruppi hanno abbiano più o meno lo stesso numero di di componenti dare il tempo agli studenti per raccogliere e strutturare adeguatamente le informazioni pro o contro quindi con una fase di documentazione in cui gli studenti devono confrontarsi tra loro per raccogliere fonti testi eh eccetera e ehm soprattutto ricordare alla classe che l'attività prevede la comprensione e rielaborazione di quanto detto dagli altri per esprimere accordo o disaccordo in merito quindi non i componenti dei singoli gruppi che esprimono l'opinione eh pro o contro quel determinato tema ma eh le fasi preliminari comprensione e rielaborazione di quanto detto dagli altri e questo abbiamo visto allarga immensamente lo spazio eh interazionale della competenza interazionale di classe mh questa era la prima attività che vi volevo mostrare eh la seconda eh riguarda la redazione di un manifesto contro il sessismo eh eh un lavoro di gruppo articolato su cinque punti A B C D ed E eh in cui eh si chiede agli studenti di realizzare questo role play immaginate di essere una un'associazione di promozione sociale e gli studenti ancora una volta formando dei sottogruppi eh scelgono un tema specifico e devono poi raccogliere il materiale prodotto in un unico documento concordando insieme tutti i punti del del loro manifesto contro il sessismo quindi eh presentare poi arrivare a concordare eh quindi tutti i punti che si ritengono punti chiave e poi presentare il manifesto alla alla classe motivando le decisioni e infine una discussione in plenaria in cui si discute sui diversi manifesti e quindi sull'opinione dei partecipanti ai diversi ai diversi gruppi ecco mh queste sono le attività presentate da al dente che eh alcune fra le attività presentate da al dente che eh come avete eh avete già visto anche nei precedenti webinar pone particolare attenzione allo sviluppo della competenza interazionale e in particolare eh diciamo a mio parere anche quelli della competenza interazionale di eh di classe. Eh salterei questo esempio per mancanza di di tempo e passerei a farvi vedere brevemente eh un altro strumento eh che come vi dicevo è eh invece ehm destinato a eh ai rifugiati adulti. È un toolkit elaborato nel duemila diciassette dal Consiglio d'Europa, dalla divisione politiche linguistiche del Consiglio d'Europa in cui vengono eh presentate eh tantissime attività eh che per coloro che mh svolgeranno appunto queste attività eh eh di supporto linguistico e che comprende eh proprio delle attività mh stratificate eh basate intanto sulle esperienze autobiografiche degli apprendenti, esperienze significative eh che siano vicine alla alla quotidianità dell'apprendente e che possono essere mh come per esempio l'app, l'uso di app come Google Maps per muoversi in un contesto ancora sconosciuto e che possono essere eh diciamo come dicevo come ehm vi accennavo prima stratificate se in un nel in quella determinata classe sono compresenti più livelli eh di di lingua. Per esempio se andate a vedere qui l'attività che è l'attività tre eh qui eh vengono proposti mh vengono proposti viene proposto l'uso del materiale eh che abbiamo visto nella nella slide precedente eh cioè ehm appunto le l'immagine di un semaforo eh con eh appunto le per per le gli apprendenti con eh problemi di eh diciamo alfabetizzazione con una bassa scolarizzazione e che si trovano ancora magari nelle fasce dei debolmente alfabetizzati. Eh viene poi proposto un lavoro in coppia per scambiarsi informazioni eh con anche un eh cambio di ruolo reciproco eh delle indicazioni preziose lascia sempre il tempo per consentire ai ehm agli studenti di prepararsi e poi con delle attività di transcodificazione ritrovare il percorso individuato da Google Maps eh su una mappa cartacea magari del della città dove vivono e eh invitare gli apprendenti ad escrivere le immagini in eh luoghi incontrati dei luoghi incontrati lungo il percorso e infine un lavoro di di gruppo un lavoro basato proprio anche sulla manualità per inserire e incollare le immagini nel posto giusto sulla mappa quindi eh diciamo un'esperienza eh di apprendimento multisensoriale a partire dall'esperienza autobiografica dello studente è stratificata per i diversi profili di apprendenti prendenti eh presenti nella eh nella classe eh purtroppo appunto per ragioni di tempo non posso soffermarmi ulteriormente su questi aspetti che pure sarebbero interessanti e e e concludo eh dicendo che dobbiamo sicuramente continuamente ripensare eh il nostro ruolo eh come dicevo prima offrire un confronto con la realtà se è possibile se ci troviamo nel contesto italiano attraverso magari uscite contatti con materiali autentici se ci troviamo in un contesto estero con l'uso di video sequenze di parlato tratte da corpora ma sappiamo anche che per esempio il film è uno strumento molto potente eh trattare temi di attualità che stimolino la motivazione degli studenti o temi vicini all'esperienza autobiografica degli studenti come per i rifugiati come nel caso dei rifugiati eh per quanto riguarda gli interventi proprio in classe non abbandonare gli studenti al lavoro di coppia o di gruppo ma plasmare i loro contributi cioè non lasciar cadere lì eh ciò che poi viene restituito in plenaria ma eh riformulare attraverso dei recast parafrasare sintetizzare o espandere quanto detto dagli apprendenti in una parola sostenere tramite proprio quel processo di scaffolding che eh è alla base della costruzione dell'intelaiatura conversazionale conversazionale ehm un altro aspetto molto importante è proprio quello legato all'esplicitazione degli obiettivi didattici quando ci troviamo in presenza di una classe eh in cui eh abbiamo davanti a noi studenti con abilità differenziate quindi condividere l'informazione anche per creare un clima di cooperative learning che eh mi può portare a proprio sviluppare questa competenza interazionale di classe di cui abbiamo parlato durante il nostro il nostro webinar grazie mille per per l'attenzione qui abbiamo una bibliografia minima che troverete anche a disposizione nel vostro eh poi nel nel link che verrà condiviso sul sito di casa delle lingue ok ecco mi sono di nuovo qui dunque allora grazie grazie mille intanto a Giulia per la presentazione eh di oggi è sempre un po' un peccato constatare che cinquanta minuti o anche un'ora insomma di di tempo a disposizione insomma permettono non sempre di no eh esaurire tutti i punti che soprattutto un tema come questo no eh potenzialmente permetterebbe di approfondire però 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 insomma ecco eh questo era l'ultimo appuntamento di questo nostro itinerario probabilmente ne seguiranno altri probabilmente anche altri appuntamenti proprio dedicati alla alla competenza interazionale allora eh Giulia sì ti tolgo eccolo qua ti tolgo il peso del controllo remoto sul powerpoint e allora ecco passiamo alle vostre domande dai prendiamoci qualche minutino in più perché ci siete sembrati piuttosto interessati dal ecco da quanto ci avete scritto quindi eh se vuoi procedere intanto Giulia io te le ho riportate dovresti avere sul nostro documento sì infatti allora scusate un secondo perché mi si è disattivato l'altro schermo non eh ecco se vuoi te lo rimando via chat e posso rimandarti il link al documento drive qui qui eh allora ecco diciamo che magari non risponderemo proprio allora per adesso abbiamo tre domande in tutto quindi vediamo se riusciamo a rispondere a tutte tre nel tempo che abbiamo se intanto qualcuno ha una domanda sintetica veloce ce la mandi comunque tramite la finestra Q&A e proviamo a rispondere. Perfetto allora scrive Paola mi chiedevo se in casi di gruppi in cui partecipanti hanno lo stesso livello ma non mostrano le stesse attitudini interazionali eh una una differenza a questo livello può essere benefica soprattutto allo studente meno a suo agio o può nocere allo scambio. Eh per dirlo altrimenti mh quando si fanno i giochi di ruolo conviene scegliere due studenti con competenze interazionali omogenee o non necessariamente? Allora grazie mille intanto Paola per la domanda. Eh in realtà eh dipende eh dal dall'attitudine da quanto è eh diciamo cooperativa l'attitudine degli studenti che eh sono protagonisti delle coppie perché eh se c'è uno studente questo ovviamente è il mio modestissimo parere se c'è uno studente competitivo e preparicatore tra virgolette come attitudine eh forse conviene mettergli accanto uno studente con lo stesso livello di lingua che possa e lo stesso soprattutto livello di competenza interazionale che possa comunque difendersi tra virgolette ehm quando invece eh gli studenti mostrano un'attitudine particolarmente collaborativa e cooperativa eh la mia idea è che metterne eh insieme in coppia lavorare due di livelli anche leggermente disomogenei possa essere un un arricchimento reciproco eh anche perché anche lo studente eh più competente può tornare diciamo su alcuni ehm aspetti eh che magari hanno bloccato lo sviluppo della competenza interazionale del compagno con cui sta lavorando e riflettere su questo su questo punto insieme a lui quindi eh riflettere proprio su come si può diventare facilitatori di interazione quindi in questo senso risponderei in questo modo se eh se sono sono stata sufficientemente esaustiva eh poi Giuliana scriveva a suo modo di vedere come cambia quanto esposto se facciamo riferimento a classe di abilità differenziata composte da alunni di scuola secondaria inferiore con passato migratorio dall'Italia all'estero la cui competenza eh competenza spazia fra il livello a uno e b due nello stesso gruppo eh eh sì ehm Giuliana sta chiedendo eh fondamentalmente come eh possiamo gestire una tale disomogeneità eh di livello giusto Giuliana allora proporrei eh assolutamente prima di tutto una un'operazione che diciamo facciamo sempre ehm quando abbiamo davanti una classe completamente disomogenea e cioè eh l'identificazione dei bisogni eh e e e di quali sono le differenze diciamo eh fra i diversi fra i diversi apprendenti che eh ci troviamo davanti eh quindi una volta fatto questo eh cercherei di mh proporre dei compiti a a difficoltà diciamo crescente eh in questo senso proprio eh espliciterei all'intera classe che eh faremo eh proporrò attività differenziate eh per eh i compagni che ancora eh stanno diciamo sviluppando la loro competenza interazionale per coloro che invece sono più avanti e poi proporrei come avete visto eh nel nella proposta del toolkit eh attività congiunte eh anche che non siano strettamente legate all'esecuzione del compito ma che facciano concentrare gli studenti sulle operazioni preliminari eh e questo diciamo eh può eh questo cooperare insieme per raggiungere un obiettivo come era in quel caso ritagliare e appiccicare le immagini sulla cartina ok? Eh può creare ehm può servire diciamo a sciogliere eh il clima di di tensione che si può generare quando sono presenti tante disparità eh e eh far sentire valorizzati anche gli studenti con competenze più più basse diciamo eh spero di aver risposto anche alla alla domanda di di Giuliana ehm poi Daniela eh invece chiedeva se il livello della classe nel video è un C1 eh no in realtà Daniela devo verificare però mi pare che il livello sia invece un B1 eh quindi eh è un livello eh molto più e più basso eh quindi se lo chiedeva in particolare in relazione adesso io non non vedo la chat non so se ha ulteriormente interagito Daniela? Scrive ok grazie mille in domande e risposte quindi non credo sia ecco era una curiosità così. Perfetto. B1? No caspiterina eh nel senso eh no sto pensando per esempio agli studenti che cioè pur essendo ispanofoni e avendo un B1 quelli di quest'anno siamo abbastanza lontani da un livello di fluency di questo tipo e da beh insomma correttezza e quant'altro però insomma poi dipende anche dai contesti di apprendimento per carità e l'amor di Dio insomma comunque no no anche a me sembravano molto bravi infatti. Considerate anche che avevano preparato a casa quel compito eh perché l'insegnante aveva chiesto loro in precedenza di eh prepararsi sul riepilogo delle descrizioni al passato quindi insomma. Ok beh comunque bravi insomma sono d'accordo con Daniela poi insomma ognuno no fa paragoni un po' con il col suo retroterra con la situazione con cui ha a che fare ogni giorno quindi bene. Ok. Eh allora eh sono le due dieci ci siamo dilungati un pochino ma ne valeva anche la pena penso. Eh allora cosa volevo dire? Intanto volevo ringraziare di nuovo Giulia Grosso per la sua presentazione di oggi e ringraziamo voi che siete rimasti connessi per quest'ora di informazione online nella nostra sala virtuale di Casa delle Lingue e vi ricordo che come sempre allora tra qualche giorno il la registrazione del webinar e le slide con anche la la bibliografia ecco che magari vi può interessare per approfondire un po' di più eh saranno disponibili sul sito internet di Casa delle Lingue il video sarà anche sulla nostra playlist YouTube e ehm tra qualche ora riceverete anche la classica mail che oltre a rappresentare il vostro certificato di iscrizione per questo webinar vi rimanda a quel piccolo questionario di soddisfazione che vi chiediamo come sempre di eh compilare per darci il vostro feedback sulle nostre formazioni online. Detto questo eh noi intanto di Casa delle Lingue vi salutiamo non escludiamo la possibilità magari a luglio di così proporre un'ultima formazione di chiusura eh prima della pausa estiva quindi come sempre vi terremo aggiornati tramite la nostra newsletter tramite la pagina Facebook e quant'altro e nel frattempo allora eh buona conclusione a chi si sta avviando al termine dell'anno accademico dell'anno scolastico buona continuazione a chi continua e eh e arrivederci a presto se lo vorrete speriamo di sì. Arrivederci grazie grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti e a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti.